Sta iniziando, è già nel pieno la stagione balneare, cosa sta facendo la capineria per scongiurare i comportamenti sbagliati da parte di bagnanti e soprattutto di chi ha imbarcazioni? Intanto buongiorno a tutti i radioascoltatori, la Guardia Costiera di Siracusa come di consueto nel periodo estivo intensifica la propria attività sia in mare che a terra a tutela sia della balneazione ma anche dell'ambiente marino. Da ultimo nel primo giugno di quest'anno abbiamo emanato la nuova ordinanza di sicurezza balneare dove sono elencate tutte, sono disciplinate tutte le attività che consentono una fruizione corretta del mare con particolare attenzione a quella che è la fascia dedicata alla balneazione. Ricordo per le spiagge si tratta di una distanza fino a 200 metri dalla costa e per le costa a picco 100 metri dalla costa. In queste due fasce, 200 metri davanti alla spiaggia di sabbia e 100 davanti alle coste rocciose, sono delle aree che sono dedicate esclusivamente all'attività di bagnazione e i natanti non possono ovviamente accedere. Questo è l'elemento fondamentale. Per quanto riguarda poi l'aspetto del pattugliamento, specialmente in questo frangente sarà molto più intensa l'attività di presenza in mare sulle spiagge della Guardia Costiera sia anche per conseguire un obiettivo sotto il profilo della deterrenza e dando anche un'informazione a chi fruisce il mare di quelle che sono le prescrizioni che sono contenute nell'ordinanza balneare. A questa poi si unisce l'attività repressiva di pattugliamento sia a terra che a mare, ma anche quella informativa che abbiamo fatto già prima dell'estate presso le scuole con i comunicati stampa proprio per ricordare e ribadire a tutti quali sono i precetti per la fruizione corretta di questo bene stupendo e prezioso di cui noi possiamo in qualche modo fruirne. E in proposito di questo c'è anche un'attività che è stata intensificando molto in collaborazione anche con le MP per tutelare la riserva della pesca di frode e di altri comportamenti illeciti. Confermo e quest'anno, già dall'anno scorso abbiamo di fatto triplicato i controlli rispetto ai due anni precedenti, anche se erano due anni un po' particolari perché era in piena pandemia, però nel 2021 abbiamo di fatto triplicato i controlli. Quest'anno gli stiamo seguendo il trend dell'anno scorso e l'intenzione è proprio quella di confermare innanzitutto la presenza come deterrente per contrastare l'attività di frodo su quella gemma, così come ho sempre detto io, che è la MP del Plemirio. È un'area marina protetta molto molto importante che dà un elemento di pregio, che costituisce un elemento di pregio per il nostro litorale Retuseo. La collaborazione, la sinergia col consorzio e con l'ente gestore è favolosa. Ci scambiamo le informazioni, loro tramite anche il sistema di telecamera, che abbiamo implementato ci consentono di, in collaborazione appunto con loro, di verificare, di monitorare il litorale dell'area marina protetta 24 ore su 24. Se giungono segnalazioni o se noi durante l'attività di pattugliamento intercettiamo un'imbarcazione che sta perpetrando qualcosa di illecito come una pesca di frodo oppure un ancoraggio in zona vietata, agiamo immediatamente. Però insieme a questo, come per l'attività afferente alla sicurezza balneare, abbiamo svolto un'intensa attività di informazione presso le scuole, proprio per dare struttura, per dare consistenza all'elemento della consapevolezza, per poter fruire dell'area marina protetta nel miglior modo possibile, ma anche a quella della divulgazione attraverso i comunicati stampa, che non servono essenzialmente a dare evidenza di quello che fa la guardia costiera, ma proprio per dare un riscontro, per dare delle pillole affinché la cultura per un non corretto utilizzo dell'area marina protetta possa diffondersi. Un'ultima cosa, diamo un segnale anche a chi frequenterà quest'anno le spiagge del mare, in caso di attività illecite, o comunque nel caso si possa segnalare qualcosa, cosa devono fare e chi devono contattare? Allora, basta contattare tramite i numeri d'emergenza il 112, che è il numero unico d'emergenza da qualche anno istituito, principalmente per le necessità inerenti alla sicurezza della marittima, insieme al 1530, il 1530 un po' per tutto, oppure contattare direttamente i numeri della Capitana di Porto Guardia Costiera di Siracusa, anche attraverso il sito, per segnalare eventuali necessità, denunciare qualsiasi aspetto o circostanza ritenuta illecita che possa in qualche modo compromettere tanto la sicurezza della navigazione e tanto l'ambiente marino. Grazie. Grazie.